Ciao a tutti diavoletti, è una giornata super bellissima perché siamo al mare, guardate, siamo in acqua, lasciate un mi piace se dobbiamo fare un tuffo Che bello il mare, ok, Vinci, cosa fai? Cosa sto facendo Vinci? Cosa? Vinci, dietro di te c'è qualcosa! Cosa? Diavoletti? Dietro Vinci sta nuotando una sirena, guardate, non lo so Vinci, c'era un pesce lì che stava nuotando Wow, cosa sto facendo? Cosa stai facendo? Sto trovando delle cose molto rare sull'acqua e guarda qui Cosa si nasconde? Sta di molto duro ma non vuole venire su Vinci sta... Cosa? Vinci, cosa hai trovato? Ah, di nuovo, Vinci! Vedi, Vinci, devi girarti, guarda! Ma solo io vedo una sirena nuotare dietro Vinci Ok, ma io non so perché qui sotto, sotto quest'acqua si nascondono cose molto rare Wow, questa è una collana? Vinci, fammi vedere, adesso la indosso Wow! Ok, ma perché sotto quest'acqua si nascondono cose così rare? Forse è un'acqua magica Ok, dai, Anto, indossa questa collana Vinci, guarda questa collana, dove l'hai trovata? Sott'acqua, ti dico Guarda Vinci, è una collana super rare Wow! Sta a trovarla! Non lo so, sotto quest'acqua si nascondono cose molto rare, tieni? Guarda, adesso trovo un'altra cosa Che bella questa collana, mi piace molto! Ecco! Hai trovato un'altra cosa? No, solo sabbia adesso, ma guarda! Trovo sempre cose sotto quest'acqua Cosa c'è? Diavoletti, ma io... Cosa? Guarda! Hai trovato un'altra cosa? Sì! Fammi vedere! Wow, Vinci, hai trovato un bracciale? Oh no, dietro Vinci c'è qualcosa che nuota Ma che c'è dietro di me? Io non vedo nessuno! Vinci! Adesso è sparito di nuovo Un pesce che nuota, ma tu stai dicendo tanto? Dai, lasciami in pace Oh, diavoletti, ho veramente molta paura per Vinci Vinci sta cercando... Oh! No! È soltanto una persona che sta surfando Ok? Vinci sta cercando dei tesori sott'acqua Guardate! Ha trovato questo bracciale molto raro Guarda cosa ho trovato adesso Cosa hai trovato? Wow! Vinci, fammi vedere! È un anello! Ok, lo sto mettendo a Vinci, ma dietro Vinci c'è un pesce! Guardate! Oh! Vinci! Niente, ho visto un pesce, ma adesso è sparito! Diavoletti, controlliamo sott'acqua Controlliamo sott'acqua? Forse si nasconde il pesce gigante che sta nuotando dietro Vinci Vinci non sta guardando perché sta cercando i tesori Eh sì? Sta cercando i tesori E non sta guardando dietro, no! Ma adesso noi dobbiamo controllare sott'acqua Dai, venite con me sott'acqua perché in quest'acqua si nasconde qualcosa 3, 2, 1 Non c'è niente? In quest'acqua non c'è niente? Vinci, io ho visto qualcosa, non schizzarmi l'acqua Solamente sabbia? Solamente sabbia? Vinci, io... Sì, io ho visto un pesce gigante! Diavoletti, in quest'acqua si nasconde un pesce gigante! Cerca di trovare qualcosa di molto raro sotto queste acque Questo è il mio tesoro magico! Guarda! Vinci, sento qualcosa nuotare vicino a me! Cosa? Diavoletti! Aiuto! Cosa? Vinci, hai visto anche tu? Sì, adesso ho visto anch'io! Ma adesso è sparito! Guarda! Il pesce era proprio qui! E... E... E sembra una coda gigante! Vinci? Ma è uno squalo! Che cos'è il diavoletti? Che cos'è che sta nuotando sotto di noi? Sembrava un delfino! Ok! Chissà che cos'è il diavoletti! Chissà che cos'è! Boh! Beh, io continuo a cercare i tesori! Stai continuando a cercare i tesori? Diavoletti? Ma anche voi vedete qualcosa dietro Vinci? Cosa? Oh! Questo mi ha colpito qualcosa! Ti ha colpito qualcosa? Qualcosa ha colpito Vinci? Eh? Io ho veramente molta paura! Cosa sta succedendo? C'è un allarme? Guardate! Persona più coda! Sirena! Una sirena si sta avvicinando! Oh no! Diavoletti! Vinci, c'è una sirena dietro di te! Oh! Cosa? Oh no! Cosa? Dove sta andando? Oh! Aiuto! Mi ha lanciato la pantofola di Vinci? Ehi sirena! Ridammi subito Vinci! Oh! Quella sirena dove sta andando? Oh no! Vinci! Vinci! Ho solo la pantofola di Vinci! Eh sì! Adesso Vinci è proprio in mezzo al mare con quella sirena! E io ho solo la pantofola di Vinci! Vinci! Mi manchi veramente molto! Oh no! Quella sirena ti ha portato in mezzo al mare! E adesso come faccio a salvare Vinci? Diavoletti! Quella sirena ci stava fissando! Eh sì! Ci stava fissando! E poi ha trovato il momento giusto per rapire Vinci! Eh sì! Ha trovato il momento giusto per prendere Vinci! E adesso cosa succederà? Cosa succederà? Diavoletti! Non posso crederci! Ho perso per sempre Vinci! Perché quella sirena ha rapito Vinci! Ma perché? Non capisco il motivo! Ok! Cosa? Diavoletti! Ma lì c'è... Una sirena? Ok! Avviciniamoci! Dobbiamo chiedere a quella sirena cosa è successo! Ehi! Cosa? Diavoletti guardate! Diavoletti? Guardate! Eh? È proprio una sirena! Ok! Ma quindi in quest'acqua vivono tantissime sirene! Ok! Adesso devo chiederti una cosa! Cosa devo fare per salvare Vinci? Non entrare! Non entrare? In acqua! Eh? Non entrare in acqua? Ok! Quindi adesso stiamo parlando con una sirena buona! E prima abbiamo incontrato una sirena cattiva! Ok! Ha rapito Vinci! E io adesso devo fare qualcosa! Questa sirena mi ha detto che non devo entrare in acqua! Ma io adesso entrerò! E cercherò di trovare Vinci! Eh sì! Devo trovare Vinci! Diavoletti! Noi stavamo solo giocando! Eh sì! Ci stavamo divertendo in acqua! E poi all'improvviso abbiamo incontrato quella sirena! Molto cattiva! Ok! Sirena! Grazie mille! Grazie mille! Ciao! Ok! Diavoletti! Adesso io entrerò in acqua! Eh sì! Diavoletti! Adesso dobbiamo entrare! E dobbiamo cercare quella sirena! Quindi occhi ben aperti! Perché potrebbe essere dappertutto! Andiamo! Vinci! Come c'è? Vinci! Oh no! Vinci non c'è! Vinci non c'è sotto... Ah! Chi mi sta... Ah! Mi sta lanciando la sabbia! Cosa? Questa sirena mi sta lanciando la sabbia? Diavoletti! Aiuto! Sta ruotando! Ah! Aiuto! Ok! Oh! Diavoletti! Questa sirena? Mi sta facendo dei disperti? Ok! Oh! Aiuto! Oh! Ok! Aiuto! Ah! Aiuto! Diavoletti! Mi sta lanciando la sabbia! Mi sta lanciando la sabbia! Ok! Si sta avvicinando! Secondo me vuole rapirmi! Secondo me vuole rapire anche me! Aiuto! Ok! Sta cercando di rapirmi! Questa sirena sta cercando di rapire anche me! E adesso io devo scappare! Devo scappare! Eh? Diavoletti! Si sta avvicinando? Eh sì! Si sta avvicinando a me! Guardate qui sotto! Diavoletti! La sirena sta nuotando proprio lì! Eh sì! Sta nuotando proprio lì! Forse non mi ha visto? No! Non mi ha visto! Ok! Dobbiamo fare qualcosa! Diavoletti! Dobbiamo fare qualcosa! Devo fare qualcosa per liberare Vinci! Oh no! Vinci! Mi manchi molto! Eh sì! Adesso ti scrivo un messaggio sulla sabbia! Eh sì! Scriviamo un messaggio per Vinci! Vinci! Guardate! Vinci! Vinci! Ah! Chi? Vinci mi manchi! Mi manchi molto Vinci! Oh! Un cuoricino! Eh sì! Adesso Vinci! Non è più con me diavoletti! Devo fare qualcosa! Devo fare qualcosa! Oh! E appena entro in acqua! Eh sì! Appena entro in acqua c'è quella sirena! Non posso andare in acqua! Eh! Non posso salvare Vinci! Perché Vinci si trova in acqua! Aspettate! Ho bisogno del vostro aiuto! Vedete la sirena? Eh sì! Secondo me! Voi vedete la sirena, no? Mmm! Forse si nasconde dietro quelle rocce? Controllate dietro quelle rocce! C'è qualcosa dietro quelle rocce? Niente? Uffa! Ok! Dobbiamo trovare quella sirena! E dobbiamo liberare Vinci! Adesso! Seguitemi! Cosa? Cosa? Ho trovato la sirena! Diavoletti guardate! Ma perché la sirena? Eh? La sirena buona sta scappando dalla sirena cattiva! Eh? Guardate diavoletti guardate! Quella sirena sta scappando da quella sirena cattiva! Ok! Adesso che ho trovato! Adesso ti ho trovato! No! Dai! Puoi dirmi come faccio a salvare Vinci? No! Fa solo questa! Vinci non c'è? No! Uffa! Ok diavoletti! Questa sirena cattiva è molto paurosa! Infatti quella sirena buona che abbiamo conosciuto prima... Adesso non c'è più! È proprio... Nelle acque lontane! Eh? Cosa? Eh? Eh? Dai! Eh? Eh? Perché mi fai dispetti? Questa è l'altra pantofola di Vinci! Diavoletti guardate! Oh! Ok! L'ho presa! Ah! Ah! Ok! Non devo avvicinarmi! Diavoletti! Questa è la pantofola di Vinci! Mi ha dato un'altra pantofola! Ma dov'è Vinci? Perché mi dà solo pantofole di Vinci? Dov'è Vinci? Eh? Cosa? Ok! Questa sirena si sta arrabbiando molto! Si sta arrabbiando molto! Diavoletti! Dobbiamo trovare Vinci! Dobbiamo subito trovare Vinci! No Vinci! No Vinci! No Vinci! No Vinci! Eh? Cosa devo fare per salvare Vinci? Per salvare Vinci devi fare delle sfide! Devo fare delle sfide per salvare Vinci? Ok! Quali sfide? La prima sfida è scegliere la pignata giusta! Eh? La prima sfida è scegliere la pignata giusta? Eh? Ah! Ah! Cosa? Ah! Aiuto! Diavoletti! Oh! Ok! Vuole colpirmi? Vuole colpirmi? Oh! Ok! La sirena mi ha detto la prima sfida! Se voglio salvare Vinci devo fare delle sfide! E la prima sfida è scegliere la pignata giusta! Quale pignata? Cosa? Chi ha messo quelle pignate lì? Cosa? Diavoletti! Questa è la prima sfida! E devo scegliere la pignata giusta! Qual è la pignata giusta? Ok! Eh? La prima pignata? Analizziamola! È un joystick? Eh sì! È proprio un joystick! Mentre la seconda pignata è la coda di una sirena! Eh sì! È una coda! Ma qual è la pignata giusta? La prima sfida è scegliere la pignata giusta! Ah! Non ridere! Ah! 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 Tavoletti! La pignata joystick è quella giusta secondo voi? Secondo me no! Perché una pignata joystick non c'entra niente con una sirena! Eh sì! La sirena non può giocare! Eh sì! La sirena non può giocare! È dentro l'acqua! È dentro l'acqua non si può giocare! Quindi secondo me questa è la pignata sbagliata! Sì! È quella sbagliata! Oh! Secondo me questa è quella giusta! Eh sì! Secondo me la pignata coda è quella giusta! Perché questa coda... Eh sì! Guardate! Ok! Non... Non devo avvicinarmi! Diavoletti! Secondo me la pignata giusta è questa! Perché la coda! La coda è la pignata giusta! Ok! Vediamo diavoletti! Adesso rompiamo questa pignata! Vediamo se abbiamo vinto! Cosa? Diavoletti! Abbiamo aperto questa pignata! Hai vinto! Hai vinto! Hai vinto? Cosa? Ho vinto! Ok diavoletti! Quindi la pignata coda è quella giusta! Diavoletti! Ma dov'è la sirena? Era proprio qui! Oh no! E se non trovassi mai più la sirena? Dov'è la sirena? Sirena! Oh no! Diavoletti! Non troverò mai più la sirena! La sirena mi stava dicendo le sfide per salvare Vinci! E adesso non c'è più! Non c'è più! Sirena! Dove sei? Ok! Quindi la sirena vuole giocare al nascondino? Cosa? Diavoletti! Sta dicendo di andare a controllare? Ok! Andiamo! Diavoletti! La sirena buona mi sta dicendo di andare da quella parte! Eh? Cosa? Ok! Andiamo a controllare proprio da quella parte! Dobbiamo trovare la sirena! Se no non potremo mai salvare Vinci! Ok! Sirena! Dove sei? Oh! Forse si nasconde qui dietro! Dov'è? Di là? Oh! Ok! Qui dietro? Oh! No! Non c'è niente qui! Diavoletti! Ma io ho paura di andare! Cosa? Vedete anche voi la sirena dietro quella roccia? Vedete anche voi la sirena lì dietro? Ok! Sirena! Esci da lì dai! Non gioca... Cosa? Eh? Eh? Dai sirena esci! Devo fare le sfide per salvare Vinci! No Vinci! No Vinci! No Vinci! Ok! Diavoletti! Vediamo se nasconde Vinci qui dietro! Do? No Vinci non c'è! Ok! Ho veramente molta paura! Usciamo dall'acqua! Dai sirena! Vieni! Ti ho trovato! Eh? Diavoletti! Sta tornando sulla spiaggia? Guardate! Sta nuotando! Sta proprio nuotando! Ok! Che ansia! Sta andando! Diavoletti! Sta andando sulla spiaggia con la sua coda super gigante! Ok! Ritorniamo sulla spiaggia per fare le sfide! Dobbiamo riuscire a salvare Vinci! Vinci! Se mi senti io ti salverò! E quella sirena sta scappando! La sirena buona sta scappando! Ok! Dai! Dobbiamo fare le altre sfide! Uffa! Perché questa sirena cattiva ha rapito Vinci? Perché non abbiamo incontrato una sirena buona? Ok! La sirena è qui! La sirena è proprio qui di nuovo! Noi abbiamo trovato la sirena! Quindi ci deve dire le prossime sfide! Quali sono le prossime sfide? Dai! Qual è la seconda sfida per salvare Vinci? Seconda sfida per salvare Vinci è alzare il bicchiere giusto! Eh? Alzare il bicchiere giusto? Quello che contiene un ancora! Quello che contiene un ancora? Diavoletti! Dobbiamo alzare il bicchiere giusto! Ah! Ok! Dobbiamo alzare il bicchiere giusto! Diavoletti! Ecco i bicchieri! Dobbiamo alzare il bicchiere giusto! Ma qual è il bicchiere giusto? Oh! Mi manca troppo Vinci! Vinci mi manchi! Oh! Dai! No Vinci! No Vinci! Oh! Uffa! Ok! Dobbiamo alzare il bicchiere giusto! Qual è il bicchiere giusto? Allora, questo è il primo bicchiere e c'è la sabbia! Questo è il secondo bicchiere e non c'è la sabbia! Questo è il terzo e c'è la sabbia! Questo è il quarto e c'è la sabbia! Aspettate! Notate anche voi qualcosa di strano in questa sfida? Eh sì! C'è qualcosa di strano in questa sfida! Qui c'è la sabbia! Qui sì e qui sì! Ma perché qui non c'è la sabbia? Non è che questo è il bicchiere giusto? Quello senza sabbia? Eh sì! Controlliamo! 3, 2, 1... Chissà se si nasconde l'ancora qui sotto! Dobbiamo trovare l'ancora! Speriamo! Oh Vinci! Mi manchi troppo! Ok! Alziamo questo! Cosa? È il bicchiere giusto! Guardate! Abbiamo trovato l'ancora! Oh! Si sta arrabbiando! La sirena si sta arrabbiando! Abbiamo trovato l'ancora! Abbiamo vinto la seconda sfida! E vai! Guardate! Qui sotto non c'era niente! No! Qui sotto non c'era niente! Niente di niente! Abbiamo trovato l'ancora! E vai! Oh! Abbiamo trovato l'ancora! E adesso qual è la prossima sfida? Eh? Adesso mi dici qual è la prossima sfida per salvare Vinci? No! No? Dai! Per favore! Dimmi qual è la prossima sfida per salvare Vinci! No! Uffa! Ma perché la sirena non vuole dirmi la prossima sfida? Ok! Dai! Per favore! Vinci è tutto per me! Dai! Qual è la prossima sfida? La terza sfida è riuscire a salvare la sirena buona! Cosa? Hai rapito la sirena buona? Sì! La sirena cattiva? Ha rapito la sirena buona! Ok! Diavoletti! Dobbiamo trovare la sirena buona! Oh! Che cosa triste! Questa sirena cattiva sta rap... Ah! Mmm! Stai rapendo tutti, vero? Ok! Devo subito trovare! Devo subito trovare quella sirena buona che ci ha aiutati! Eh sì! Quella sirena ci ha aiutati molto! Oh! Si nasconde sott'acqua secondo voi? Diavoletti! C'è qualcuno in acqua! Vedete? No! Non c'è nessuno in acqua! Sirena buona dove sei? Cosa? Diavoletti? Quella sirena è in trappola! C'è una sirena in trappola lì sotto! Guardate! Ok! Dobbiamo andare a salvare quella sirena buona! Diavoletti! Abbiamo trovato la sirena buona in trappola! Mi dispiace molto! Diavoletti! Dobbiamo salvare la sirena buona! Vai! Salviamo subito! La sirena buona! Oh! Ok! Ecco fatto! Adesso! Dai! Vieni con me! No! Ok! Diavoletti! Guardate! Abbiamo trovato una sirena buona! Si sta arrabbiando! Si sta arrabbiando! Rimettiamo subito la sirena buona in acqua! Ok! Andiamo! Adesso puoi notare! Sì! Sì! E vai! Abbiamo salvato la sirena buona! Ciao! Ok! Adesso devi ridarmi subito Vinci! Ok! Vinci è lì! Eh? Vinci è lì? Dov'è Vinci? Eh? È lì? Dov'è? Cosa? Vinci! Sì! Diavoletti! Vinci è dietro quella roccia! Vinci! Vieni subito qui! Vinci! Vieni! Dai Vinci! Vieni! Vieni subito! Eh? La sirena buona sta andando a prendere Vinci? Guardate! Wow! Ok! Sì! Che bello! Vinci sta tornando proprio qui! Grazie all'aiuto della sirena buona! Guardate! Ok! Ce l'ho fatta! Adesso tu puoi andare via! Sta andando via? Diavoletti! La sirena cattiva sta andando via! Vinci! Abbracciami! Vinci è qui con me adesso! Siamo tornati insieme! Che bello! Cosa? Vinci guarda! Quella sirena cattiva sta andando via? Vai via! Eh sì! Vai via! Ok! Sta andando via! Adesso va sott'acqua! E non ritornerà mai più! Ah! Ah! Grazie! 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 Grazie!